Manovra finanziaria, aree interne, spopolamento, emergenza e ricostruzione post terremoto, infrastrutture, viarie e ferroviarie, flat tax, sono i temi affrontati dal senatore Gaetano Quagliariello, fondatore del movimento politico IDEA, stabilmente collocato nel centrodestra, ma non pregiudizialmente ostile al governo Lega Movimento 5 Stelle. Questo governo va incalzato, non va condannato a priori, è ridicolo fare gli ostruzionismi perché questo governo mette la fiducia quando come il PD si è messo la fiducia persino sulla legge elettorale e quello che noi faremo è appunto quello di incalzarlo. Io credo che si possano rispettare i conti facendo alcune cose importanti, ad esempio la fondazione che io presiedo ha fatto una proposta, quella di una flat tax, di una tassa unica, perché la flat tax lo deve sapere il Movimento 5 Stelle, non solo le tre aliquote, è un'aliquota unica, ovviamente chi ha di più paga di più, chi ha di meno paga di meno, che viene completamente coperta dall'extragettito che si può prevedere. Questo con l'approvazione dei maggiori economisti è ad esempio uno dei temi sui quali noi daremo battaglia. Abruzzo, Molise e in genere le regioni del sud soffrono anche di una tavica difficoltà nei collegamenti stradali e ferroviari. Il ministro per il Mezzogiorno, Barbara Lezzi, ha annunciato che in finanziaria ci sarà una norma che prevede il 34% degli investimenti di ANAS e ferrovie destinato alle regioni del sud. Sì, le infrastrutture che mancano al Mezzogiorno sono ovviamente strade e ferrovie, ma non solo. Ci sono anche infrastrutture immateriali che oggi sono assai più importanti. In molte zone di queste regioni non è possibile fare nemmeno una telefonata. Quando noi stiamo parlando di tecnologie avanzate, come è possibile competere ad esempio in un ambito come il turismo? Io credo poi che è necessario prevedere misure che possano favorire gli investimenti. Diciamo le cose come stanno, c'è una vera e propria emergenza per le zone dell'interno. Oggi noi stiamo assistendo a un progressivo spopolamento delle zone interne verso le coste, con danni per l'interno che rischia di rimanere il paese dei vecchi, perché gli indici demografici stanno crollando e danni anche per le coste che non hanno le infrastrutture materiali e sociali per poter reggere questa invasione. Oggi la questione meridionale si sta ampliando e approfondendo perché si sovrappone alla distinzione tra nord e sud, quella tra interno e coste. Impegno preciso anche per il terremoto del Molise. Il dramma, la tragedia del ponte di Genova ha coperto un dramma minore, ma che comunque c'è stato, che è quello del terremoto in Molise, che è ancora sconosciuto, ad esempio nelle aule parlamentari. Per quel che mi riguarda mi impegnerò a portarlo nelle aule parlamentari.